Ecco le immagini dell'arresto del boss latitante Giovanni Vitale, la fase più importante quando il Panda, così era soprannominato Vitale, ormai braccato in un casolare nelle campagne fra Monte Lepre e Giardinello nel Palermitano, prova un'improbabile fuga, ma non ci riesce. Eccolo qua. Rettissimo, dai. Sei catturato, ho catturato. Un duro colpo per cosa nostra, l'arresto di Vitale, 47 anni, latitante d'Amesia, un retroscena particolare. Il boss è stato tradito dall'amore. I carabinieri, insieme a Giovanni Vitale, hanno arrestato l'operaio Salvatore Billeci, che avrebbe accompagnato la moglie del boss nel casolare in cui è stato scoperto. I militari sono arrivati a ricercato, seguendo la donna, in seguito alla perquisizione, è apparso subito evidente che quello non fosse il reale nascondiglio, bensì un posto ritenuto sicuro dove poter incontrare la moglie. All'interno dell'appartamento sono stati rinvenuti dei documenti di identità e di guida con la foto di Vitale, ma intestati ad un'altra persona. Il proprietario dell'immobile, che ospitava Vitale, un 53enne di partinico noto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà con l'accusa di favoreggiamento. Il capo mafia era stato condannato in primo grado a otto anni e quattro mesi. Vitale era il braccio operativo, delegato alla gestione delle estorsioni di Giuseppe Fricano, già reggente del mandamento di Resuttana, e fu lasciato al suo posto anche quando si decise di esautorare lo stesso Fricano. In carcere ci è finito quattro volte, ma è stato sempre scarcerato. Tornerà adesso in cella, dopo che aveva tentato di imporre il pagamento del pizzo a due proprietari di discoteche. Grazie.